Ciao bambini! Bentornati nel mondo dei piccoli bellies! Ma manca qualcuno oggi? Ma dov'è? Chi manca? Bravo! Manca Bobby? Boo! Boo! Come ci hai spaventati Bobby Boo! Ma non puoi apparire così l'improvvisamente! Ci hai spaventati! Basta, basta ridere, piccolo berichino! Fare sempre le berichinate che ci fa ridere un sacco! Piccoletto! Vieni, ecco qua il tuo biberon! Oh bambini, state super all'alerta se avete adottato il Bobby Boo! Perché è uno dei piccoletti che può spaventarvi da un momento all'altro! Oggi parleremo del suo nome, del bellissimo super burlone di tutto il belly wheel! Eccolo, il piccoletto Bobby Boo, giusto? Hai già capito di chi si tratterà tutto il video! Grandioso! Come mi sono spaventata! E tu? Piccoletto, vuoi ascoltare la storia del tuo nome? Va bene, ascolta! Tutto cominciò quando lui appare per la prima volta sul nastro! Sì, bambini, se qualcuno non lo sa, il nastro è un filo che gira e gira, non sarebbe anche un filo! È tipo una piattaforma che gira e ci sono dei bebè che si preparano per l'adozione! Sì, io li ho adottati tutti e quattro! Guarda come sono super carini! Ti ricordi i nomi di tutti quanti? Yami Yami! Yami Yami, bravo! Bobby Boo, giusto? Poi? Ma sta, ancora meglio! E piccola Pinky King! Grandioso! E continuiamo! Quando lui si trova la prima volta sul nastro, stava nascosto sotto la sua copertina! Questa bellissima copertina coperta di fantasmini! Boo! E poi giusto è Bobby Boo! Piccolo, piccolo, sembrava un piccolo fantasmino, e giuro sotto questa copertina! Mi spaventavo tantissimo! Mi era spaventata super, super tanto! Quando lo vedrò! E infatti lui non smetteva più di ridere da quando mi ha visto super spaventata! Ha detto, oh, lei mi adotta e ora la spavento! Lui è bravissimo! Adesso ti racconto del suo carattere! È sempre super allegro e non gli importa cosa succede! La sua risata è contagiosa! Guarda un po'! Basta, Bobby Boo! Abbiamo capito che la tua risata è davvero contagiosa! Sei veramente simpaticona, però io so che è anche la cosa che tu riesci a fare meglio di tutto a raccontare le barzolette! Bambini, secondo voi, quanto è bravo lui a raccontare le barzolette che tutti ridono e fanno super fatica di smettere! Oh, vieni piccolino, guardatelo un po'! Sentiamo che barzolette ci racconta! Accendiamolo! Come sempre, le batte il cuoricino per 15 secondi! Guardate che bello! C'è la lucina! Piccoletto, come sei carino! Oh, è anche un gigantesco pannolino! Aspetta che te lo chiudo bene! Sentiamo! Ciao, Bobby Boo! Bobby Boo! Che paura, mi ha spaventato! Ha raccontato la barzoletta, lui, bambini! Ora tocca a voi indovinare che cosa ha detto! Parlava di una pera! Sì, che barzolette sapete voi sulla pera? Scrivetelo sotto nei commenti! Se le sapete ma non volete scrivere, mettete solo un mi piace al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo al più presto nel prossimo video! E giocheremo un po' nascondino! Guarda il prossimo video al prossimo sabato! Ciao!